Aula magna del Policlinico di Bari per l'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020. Alla cerimonia ha partecipato anche il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Tanti temi affrontati dalla necessità di investire sui giovani ricercatori all'internazionalizzazione dell'Ateneo Barese. Agli effetti della legge 240, una legge, ha sottolineato il Rettore Stefano Bronzini, che ha legalizzato e favorito l'incremento del precariato. Grande preoccupazione nelle parole del Rettore, che ricorda come i finanziamenti per la ricerca e l'istruzione pubblica abbiano escluso il Meridione, che vede ancora un numero troppo alto di abbandoni e di studenti che migrano. Bari è cambiata tanto, è cambiata tanto l'Università Aldomoro, è cambiato il Politecnico, sono cambiate tutte le università pugliesi e dobbiamo intercettare tanti, ma proprio tanti investitori anche internazionali. In alcuni centri di ricerca questo accade, perché sono diventati centri di eccellenza. Il legame con alcune aree industriali è molto forte, in alcuni casi ancora debole, va rafforzato. Serve rafforzare l'ecosistema, è un lavoro che la Regione Puglia ha fatto molto bene in questi anni. I bilanci dell'Università di Bari risultano fortemente penalizzati, nonostante i finanziamenti messi in atto dalla Regione Puglia, che sostiene questo grande patrimonio della formazione. Un'università che può vantare numerosi centri di eccellenza, ma che ancora fa fatica per mancanza di risorse e soldi.